Benvenuti! Oggi un video un po' più leggero, ogni tanto secondo me ci sta. Parliamo del problema dei feed del homepage del canale YouTube che non ci mostra i video che ci piacciono veramente. Perciò disiscriviamoci da tutti i canali YouTube. No, ovviamente, infatti scherzo, ma per capire cosa voglio dire, continuo a vedere il video. Uno dei maggiori problemi di YouTube è il fatto che non abbia una buona struttura per inviare notifiche sui nuovi caricamenti dei video. Quando andiamo sull'home page di YouTube in cerca degli ultimi video caricati dai canali che ci piacciono, in realtà ci viene mostrata tantissima roba, ma i video dei canali che veramente ci piacciono molto spesso ci sfuggono e così li perdiamo. Un po' perché è YouTube che esagera con i video e i canali consigliati. Almeno questo ho notato io che ogni canale al quale sono iscritto poi ci sono tre file di canali che YouTube mi consiglia e magari invece io in home page voglio trovare principalmente i canali ai quali sono iscritto. Un altro problema però è che siamo iscritti veramente a tanti canali. Alcuni di noi hanno meno canali, altri invece hanno troppi troppi canali. E in questo modo ovviamente il feed dell'home page di YouTube si riempie di tutte queste iscrizioni e di nuovo rischiamo di perdere i video che veramente ci piacciono. Magari ci siamo iscritti ad un canale perché in quel periodo faceva un certo tipo di video che ci piaceva, ma poi quel canale ha cambiato direzione, fa video che non ci interessano più, però continuiamo a vedere nel nostro feed i suoi video. Oppure ci siamo iscritti a un canale perché in un certo periodo avevamo una passione particolare e poi questa passione è diminuita, quei video non ci interessano più e di nuovo ce li ritroviamo in home page. Ogni tanto farebbe bene al nostro account e alla nostra esperienza di visione se andassimo nel gestisci iscrizioni e ci disiscrivessimo da tutti quei canali che non guardiamo più. Possiamo farlo anche direttamente dai feed dell'home di YouTube. Se vediamo che un canale e dei video compaiono 10 volte nel nostro stream ma non li andiamo a guardare mai e siamo iscritti a quel canale, allora andiamo in quel canale e disiscriviamoci. Faremo un grosso vantaggio a noi stessi ma anche al creatore di contenuti perché questo YouTuber a quale siete iscritti vede che ha una base di iscritti molto alta mentre poi in realtà i propri video vengono visti dal 20% degli iscritti. Ora faccio un esempio. In questo modo aiutereste invece lo YouTuber a capire chi sono le persone veramente attive e coinvolte con il proprio canale. E poi ovviamente avreste un vantaggio anche voi, finalmente avreste una home più ordinata contenente quelle cose che vi piacciono di più. Poi ricordiamoci che per avere più notifiche, per rimanere sempre in contatto con i canali che ci piacciono di più, allora dobbiamo anche interagire con loro lasciando un mi piace, aggiungendo una playlist, lasciando un commento, condividendo il video. In questo modo sappiamo che più interazioni ci sono con quel canale più possibilità ci sono che quel canale venga mostrato nei nostri feed. Quindi interagiamo, facciamo sentire al sistema di YouTube che quel canale ci piace veramente e che quindi lo vogliamo sempre nei nostri feed. Ma anche facciamo ordine tra i nostri canali, i canali ai quali siamo iscritti. Adesso vi mostrerò quattro modi per rimanere in contatto con i canali che ci piacciono di più. La prima possibilità è quella di selezionare, inviami gli aggiornamenti per quel canale lì. Come si fa? Si va in gestisci iscrizioni e all'interno di gestisci iscrizioni abbiamo tutta la lista dei canali ai quali siamo iscritti e di fianco c'è una casellina inviami gli aggiornamenti. Per i canali che seguiamo di più possiamo scegliere anche se l'invio degli aggiornamenti sia occasionale oppure avvenga sempre. Quindi il canale che vi piace di più, ma veramente di più, il vostro canale del cuore, andrete lì, metterete inviami gli aggiornamenti sempre. In questo modo avrete delle notifiche sia via mail che sui dispositivi mobile. Un'altra possibilità è quella di creare delle raccolte. Abbiamo questo strumento sempre in gestisci iscrizioni che ci permette di fare dei sottogruppi dei canali ai quali siamo iscritti. Una volta che abbiamo creato la raccolta, la cosa bella è che ce lo ritroviamo nell'home page, nella barra laterale sinistra che è la guida. All'interno ci troviamo il nome della nostra raccolta e cliccando sulla raccolta troviamo soltanto i video e le attività dei canali contenuti in quella raccolta. Un terzo modo è quello di utilizzare i feed RSS del canale, così quando andrete a leggere le notizie del giorno troverete all'interno anche i video caricati dai canali ai quali vi siete iscritti. Come si fa ad avere un feed RSS per un canale YouTube? Nella descrizione vi lascio la formula, la vedete anche qui. Dovete sostituire a nome canale il nome del canale al quale volete iscrivervi. Il nome mi raccomando quello dopo user slash. A questo punto quando avete creato l'url del feed RSS la importate nel vostro lettore di feed RSS. Fate aggiungi contenuto, aggiungi fonte e il programmino ve lo importa. Il quarto modo è quello di utilizzare una nuova applicazione italianissima uscita da poco, si chiama NotiBee. Questa applicazione è stata pensata proprio per mettere in maggiore contatto creatori di contenuti, YouTuber ma anche di altre piattaforme e il loro pubblico, i loro fan. Quindi se volete avere un accesso diretto agli aggiornamenti del vostro YouTuber preferito potete utilizzare NotiBee che per adesso è in versione beta e credo sia disponibile solo per Android almeno che non è stata rilasciata proprio ora. Ovviamente una parte importante dovete farla anche voi avvisando gli iscritti del vostro canale che possono rimanere in contatto con voi in tanti altri modi oltre l'iscrizione. Potete dirlo direttamente nel vostro video, fare un video apposito per spiegare queste cose oppure condividere il mio video sulle vostre pagine Facebook per dire ai vostri iscritti che possono utilizzare questi quattro strumenti in modo che sempre più persone sappiano che non c'è soltanto l'iscrizione ma ci sono altri modi per rimanere in contatto e ricevere gli aggiornamenti dei nuovi video caricati. NotiBee è veramente interessante e se volete approfondirlo come primo video vi lascio il link a un video di Retro Player che sono anche tra i creatori di questa applicazione in cui vi spiega tutto il funzionamento dell'app. Invece sotto vi lascio un mio video un po' vecchiotto quindi mi troverete completamente diversa in cui però spiegavo nel dettaglio tutta la questione del gestisci-iscrizione e la creazione delle raccolte a mo' di tutorial quindi potete vedere tutti i passaggi. Iscrivetevi al canale così ci vediamo anche venerdì prossimo alle 16 con un nuovo video e seguitemi anche sui social network Google+, Facebook e Twitter perché durante la settimana pubblico altre informazioni utili, contenuti esclusivi. Per esempio questa settimana ho pubblicato un articolo che spiega come utilizzare il pulsante di invito all'azione di Facebook per mandare le persone su YouTube. Notification, notification.